Sindaco, oggi c'era il Ministro Bonafede a Napoli e ha avuto modo di parlare con lui per chiedere un'attenzione da parte del Governo sul Napoli. Il protocollo è uno scambio cordiale di benvenuto, però ci siamo lasciati con l'intesa di vederci a Roma per un incontro ad ampio raggio sui temi tra Ministero Giustizia e Città di Napoli, quindi ci vedremo a breve, siamo rimasti in questo modo.